Abbiamo detto il partito del fare, il partito che ha già dimostrato di saper fare, mentre tutti gli altri prometteranno a lungo in questa campagna elettorale. Molti diranno faremo e io voglio dargli anche l'opportunità di dire che sicuramente faranno, io non voglio direi no. Però la differenza tra il nostro partito e quello di tutti gli altri, e lo sottolino di tutti gli altri, è che noi abbiamo già fatto. Perché un partito e non tante liste civiche, nella storia di questo paese, e internet oramai è una cosa importante, perché basta cliccare e spingere qualche tasto e viene fuori tutto, abbiamo visto che nella storia di questo paese tutte le liste civiche, tutte le listine e listarelle che anche in questa città noi vediamo all'opera, durano un breve spazio politico. Sono tutte liste che il più delle volte è semplicemente la soddisfazione o la presunzione o la voglia di arrivare di un semplice candidato che, nascondendosi dietro l'idea della lista civica, poi spera di raccogliere un po' di voti per il secondo turno e andare, se ci fosse il ballottaggio, a chiedere qualcosa. Noi non abbiamo fatto questo, abbiamo scelto da subito una coalizione, abbiamo da subito appoggiato un sindaco nel quale crediamo molto, un sindaco che ha già dimostrato di saper amministrare e siccome noi credo che abbiamo dimostrato di saperlo fare anche noi, insieme potremo fare grandi cose.